Buonasera, buonasera a tutti, sono Elis Gabrielli, sono la direttrice del Vittoriano e Palazzo Venezia, noto anche come vive per coloro che vengono qui per la prima volta a una breve presentazione del nostro istituto, per gli affezionati la sentite di nuovo, noi siamo un grande istituto del Ministero della Cultura, siamo nati nel 2020 con il compito di gestire proprio qui al centro di Roma due edifici che si affacciano su Piazza Venezia, il monumento a Vittorio Emanuele II, noto anche come Vittoriano Altare della Patria e appunto Palazzo Venezia dove ci troviamo qui riuniti questa sera. Un istituto del Ministero della Cultura quindi di istituzione relativamente recente che in questi tre anni e mezzo ormai di vita ha raggiunto risultati rimarchevoli, vi racconto sempre del dato sull'affluenza di pubblico che anche quest'anno è in crescita, l'anno scorso abbiamo chiuso con oltre 4 milioni di visitatori e quest'anno ci stiamo avvicinando per certi sensi pericolosamente ai 5 milioni attestandoci come uno degli istituti più visitati della penisola. Grandi progetti che sono in corso e di cui vi do abitualmente conto che riguardano alcune scelte strategiche. Qui a Palazzo Venezia stiamo procedendo col coordinare le attività della metro C che prevedono il consolidamento delle strutture ma anche il restauro di tutte le superfici decorate del piano nobile con la realizzazione del percorso sul fatto in Italia, sulla grande tradizione artistica e artigiana del nostro paese. Al Vittoriano i lavori di recupero dell'ala sui fori imperiali destinata a diventare un centro espositivo di livello internazionale e al tempo stesso tutto il recupero della decorazione scultore. Abbiamo innalzato i ponteggi per la seconda fase dei restauri delle sculture del prospetto principale da cui ci aspettiamo molto per la lettura del monumento con il recupero anche della duratura dei gruppi bronzi del pensiero e dell'azione. Accanto a queste attività di natura strategica noi fin dall'inizio abbiamo associato come sapete un intenso programma di attività culturali, attività culturali che puntano innanzitutto sulla ricerca e sul rapporto con le università e le istituzioni culturali straniere, sull'attività educativa e naturalmente sull'attività di valorizzazione vi ricordo a chi fa piacere di visitare la mostra che è attualmente in corso al Vittoriano incentrata su gli ultimi momenti di Giuseppe Mazzini di Silvestro Lega, un dipinto che è un'icona del nostro risorgimento eccezionalmente in presido al Museo di Providence dove si trova dal 1959. In questo contesto di programmazioni culturali si inserisce anche, come voi sapete, questa rassegna al centro di Roma che è giunta alla sua terza edizione. La rassegna è nata con un'idea ben precisa che Piazza Venezia è un'area di altissima concentrazione archeologica, storico e storico-artistica e che i cittadini romani in primo luogo la percepiscono generalmente come un luogo di traffico e non come un luogo di storia e di cultura, adesso la percepiscono anche come un luogo di lavori e quindi pensiamo che questa rassegna che invece voglia proprio spiegare naturalmente ai turisti ma anche e soprattutto, come dicevo, ai cittadini cosa significa questo ruolo nel tessuto della città abbia ancora più senso. La formula è semplice ma non banale, chiamiamo dei curatori di alto livello su singoli temi, quest'anno sapete che abbiamo la storia dell'arte, l'architettura, abbiamo aggiunto l'archeologia e la storia ovviamente e anche questo mondo degli istituti culturali stranieri a Roma che ci sta facendo vedere proprio il carattere cosmopolita della nostra città. Questi curatori sono chiamati a loro volta a scegliere dei relatori di eccellenza che trattano un tema scelto all'inizio, scelto a priori che però ha a che fare con la nostra città e in particolare con quest'area della città. Il ciclo di storia dell'arte, come voi sapete, è autorevolissimamente curato da Silvia Ghisburg che peraltro fa parte del nostro comitato scientifico e che in spirito di servizio ha scelto di farsi carico di uno di questi cicli. Oggi purtroppo per un malanno di stagione che però vedo è molto più diffuso di quanto il caldo potrebbe farci pensare, non è qui con noi e quindi ha lasciato a me il compio di presentare il relatore di oggi. Il relatore di oggi è Marcel Grosso, è professore associato all'Università di Padova che ci fa molto piacere ospitare qui perché tratterà un tema che per noi è particolarmente significativo che è quello di Tiziano a Roma. Dicevamo nell'incontrarci che non c'era un posto più adeguato di questo perché questo è probabilmente l'edificio a Roma che è tra i più legati alla figura di Paolo III che ha avuto qui un ruolo centrale. Marcel Grosso ha per quanto, se posso permettermi, giovane accademico, ha già un curriculum di rilievo in cui soprattutto la figura di Tiziano è stata sempre al centro perché come potrete leggere nel suo profilo è stato oggetto della sua tesi di laurea e poi credo che ci sia ritornato anche durante il dottorato di ricerca e che ha avuto esiti ovviamente anche in importanti pubblicazioni. Tiziano non è ovviamente l'unico degli argomenti su cui lavora Marcel Grosso ma mi piace sottolineare che gli altri argomenti rispondono comunque a un percorso di grande rigore e che da Tiziano poi si è allargato anche al resto della cultura veneziana, penso agli studi su Tintoretto. Credo che gli ultimi esiti editoriali abbiano visto anche un approfondimento in teme di storica della critica d'arte, quindi abbiamo oggi uno specialista che approfondirà un tema che credo vi spingerà a riguardare con occhi nuovi anche tutta l'area quando uscirete da qui. Grazie. Buonasera a tutte, buonasera a tutti, grazie direttrice per questo speciale invito che ho accettato con grande entusiasmo visto come diceva lei il mio vecchio amore per Tiziano Vecceglio che comunque continua ad essere sempre attuale e dunque quale luogo migliore di questo per parlare di un evento straordinario nella vita del più grande pittore del rinascimento veneziano. Dunque il soggiorno che Tiziano Vecceglio compie a Venezia a Roma tra il 1545 e il 1546 e nella storia lunghissima di questo pittore che visse moltissimo è uno dei momenti meglio documentati, meglio documentati attraverso tracce negli epistolari non solo dell'artista stesso, un epistolario molto consistente, ma anche nell'epistolario di uno dei suoi migliori amici, il letterato Pietro Aretino, l'epistolario di Monsignor Giovanni della Casa, Nunzio Apostolico e poi naturalmente le vite di Vasari, la biografia del 1568 che racconta anche con dettagli molto gustosi, di colore, questo soggiorno che come vedremo mise in qualche modo in allerta anche i pittori romani. La ricerca di Tiziano a Roma, il tentativo di portare Tiziano a Roma è un tentativo che risale a molto tempo prima del 1545, questo ce lo dice proprio Giorgio Vasari e in particolare intorno al 1513, un tentativo che però si risolse con un nulla di fatto. Il tentativo era stato fatto da Pietro Bembo, il futuro cardinale che vediamo qui rappresentato nella stupenda tela di Washington realizzata da Tiziano proprio alla nomina del cardinalato tra il 1539 e il 1540, quindi questo primo tentativo avvenne quando Pietro Bembo venne chiamato a Roma come segretario ai brevi di Leone X e a ciò che, scrive Vasari, Tiziano vedesse Roma, Raffaello D'Aurbino e Taltri. In realtà in quel momento Tiziano era tutto concentrato sulla Serenissima, Tiziano voleva diventare il pittore ufficiale della Repubblica di Venezia, voleva in qualche modo prendere il posto del grande vecchio della pittura veneziana di Giovanni Bellini, quindi ottenere la prestigiosa provvigione senza ria del fondaco dei tedeschi. Quindi questo tentativo fallì. Da quella data fino al 1545 ci sono delle tracce che ci raccontano di altri tentativi di portare Tiziano a Roma. L'occasione in realtà arrivò molto più tardi e non tanto per la ricerca di fama, non tanto per la ricerca di gloria. Tiziano nel 1545 era già da tempo il pittore ufficiale dell'imperatore Carlo V, Tiziano era oberato dalle commissioni. Tiziano è spinto alla ricerca dei Farnese, quindi di Papa Paolo III Farnese, ma soprattutto del cardinale Alessandro Farnese per risolvere le sue ansie, le sue apprezzioni di genitore. Cioè voleva finalmente ottenere per uno dei figli, Pomponio, un canonicato in quanto per questo figlio aveva proprio previsto una carriera religiosa. In particolare aveva puntato un beneficio ecclesiastico sulla abbazia di San Pietro in Colle nel Cenedese vicino Vittorio Veneto, non troppo lontano da un podere che aveva acquistato Tiziano e dove voleva costruire una villa di campagna. Quindi questa è la vera motivazione che spinge finalmente Tiziano a fare le valigie, diremmo oggi, e partire verso questo lungo viaggio da Venezia fino a Roma. C'è da dire che Tiziano tra i pittori veneziani del Rinascimento è anche quello che ha viaggiato forse più di tutti gli altri, quindi c'era evidentemente una predisposizione a questo. Dunque possiamo ripercorrere le vicende relative a questa occasione a partire dal 1542 quando furono propri Farnese a contattare Tiziano per la realizzazione del ritratto di Ranuccio Farnese, appena dodicenne, figlio di Pierluigi Farnese, quindi nipote di Papa Paolo III Farnese, il quale si era ricato a Padova per compiere, per completare la propria formazione all'università. Abbiamo una lettera importante scritta da Giovan Francesco Leoni, precettore di Ranuccio durante il soggiorno a Padova, che proprio ci spiega come in quell'occasione, nell'occasione del ritratto, avesse fatto di tutto Giovan Francesco Leoni per convincere Tiziano a partire dunque andare a Roma a ritrarre tutti i personaggi più importanti della famiglia Farnese, proprio puntando sull'ottenimento di questo beneficio ecclesiastico. Vostra signoria reverendissima e illustrissima, si sta rivolgendo ad Alessandro Farnese, saprà come il vescovo di Brescia, si va preparando al ritorno di Roma e porterà a seco un ritratto del signor Priore Ranuccio Farnese, che egli ha fatto fare dal vivo Tiziano, designato alla signora Duchessa, quindi alla mamma di Ranuccio Farnese, dove si potrà ben admirare la sua virtù, massimamente per averlo fatto parte in presenza e parte in absenza del signor Priore. Quindi il povero Ranuccio Farnese il bimbo non fu costretto a ore e ore di sedute di posa, ma il maestro con l'abilità che aveva riuscì anche attraverso gli schizzi a completarlo poi nella sua bottega a Venezia. Nel qual tempo, avendo il vescovo e il patriarca da qui leggette, noi altri persuasolo a venire a Roma, si lasciò persuadere forse più che sia mai stato per là dietro e ne dette qualche promissione, quindi qualche promessa, ancorché non se gli credesse ben bene, dopo essendo io seco in giorno, venuti a questo ragionamento più largamente e più particolarmente, gli dissi che in tal andata doveva far fondamento, avendo egli un figlio, Pomponio, qual tiene qui a studio, dedicato alle cose di Chiesa, e già beneficiato facendoli fede dell'affezione che vostra signoria reverendissima e illustrissima li porta, e della stima che è la fa della virtù sua per le quali cose, parve, che si commuovesse assai e che tal ragionamento gli piacesse. Stiamo parlando dello stupendo ritratto di Ranuccio Farnese, oggi conservato alla National Gallery di Washington uno dei vertici non solo della pittura di Tiziano, ma dall'intera ritrattistica del Rinascimento. Tra l'altro è uno di quei testi pittorici in cui Tiziano dà il meglio di sé nella rappresentazione dell'infanzia. Tiziano è particolarmente attento ai bambini, i suoi quadri sono ricchi di bambini, perché riesce sempre a trovare quel giusto equilibrio tra l'ufficialità della posa, stiamo parlando del rampollo di una delle famiglie più importanti di quel momento, quindi l'equilibrio tra la posa ufficiale così formale con quella irrequietezza che è tipica dei bambini. Vi invito a guardare il modo con cui Tiziano riveste il bambino di un robbone di raso così grande, così ingombrante, forse di una o due taglie più grandi, tant'è che gli scivola dalla spalla destra, non riesce quasi a tenerlo su. E poi questo sguardo da cerbiatto un po' perso, quasi alla ricerca di quella mamma che stava ormai così lontano. Insomma questo ritratto realizzato nel 1542 dovette avere un grande successo, tant'è vero che Papa Paolo III Farnese lo inviterà subito dopo nel 1543 a raggiungerlo a Ferrara e poi a Busseto, dove si sarebbe dovuto incontrare con Carlo V per realizzare questa volta un suo ritratto. Un ritratto che rappresenta una svolta potremmo dire anche stilistica nella produzione del maestro, quindi l'avvio di un tipo di pittura che ci porterà più avanti a delle conseguenze estreme, quasi di impressionismo pittorico. Ciò che resta sempre fortissima è l'intensità psicologica con cui Tiziano riesce a dialogare con i suoi effigiati. Qui il Papa, come vedete nel dettaglio della mano che è stata paragonata quasi ad un artiglio di un rapace, ci dà proprio l'idea delle ambizioni che il vecchio Papa era riuscito a soddisfare portando la sua famiglia ai massimi vertici degli ordini ecclesiastici. Il dipinto fu oggetto immediatamente di lodi straordinarie e di numerose repliche. Il successo fu tale e Paolo III fu così soddisfatto del risultato che addirittura gli offrì l'ufficio della piombatura che in quel momento era detenuta da un altro veneziano che si era trasferito a Roma molto tempo prima, Sebastiano del Piombo nel 1510, proprio per cercare di invogliare l'artista dunque a scendere a Roma. In realtà Tiziano non era ancora convinto, rifiutò questa magnifica offerta, non abbiamo delle circostanze, delle testimonianze dirette dell'artista, però entra in campo Aretino con il suo straordinario epistolario che in una lettera del luglio del 1543 elogia proprio questa scelta di Tiziano puntando tutto su un confronto in realtà che è tra Venezia e Roma. Sol voi, scrive Aretino, si sta rivolgendo a Tiziano, col non volere il grado offertovi dimostrate quanto di eccellenza, di bellezza Roma sia inferiore a Venezia e qual più valga la nobiltà dell'abito secolare che la viltà del vestimento fratesco. Ma viva il veceglio da che egli apprezza più il buon nome che la grande entrata. Quindi attraverso questa lettera cerca un po' di mettere in campo quelle che erano le sue considerazioni, il suo pensiero nei confronti della curia romana da cui si era distaccato molti anni prima. Tutto il resto del 1543 e del 1544 è segnato da un carteggio molto fitto tra Tiziano e il cardinale Alessandro Farnese proprio sul tema del beneficio ecclesiastico per lo scapestrato pomponio. Ma un dato, una lettera molto significativa che ci fa capire che le cose stavano andando dal verso giusto per i Farnese, è una celeberrima lettera del 20 settembre 1544 scritta da Monsignor Giovanni della Casa ad Alessandro Farnese. Monsignor Giovanni della Casa è un personaggio importantissimo, Nunzio a Venezia, in contatto con Tiziano e capiamo anche che l'intervento, l'intermediazione dipendeva anche da un tornaconto che il Nunzio voleva in termini di opere d'arte che poteva ottenere dal maestro stesso. In questa lettera, tramite questa lettera, Monsignor della Casa fa sapere al cardinale che Tiziano ha quasi completato la copia della Venere di Urbino che gli aveva chiesto e soprattutto ci dice che Tiziano era finalmente pronto a venire a Roma, dunque a ritrarre l'illustrissima casa di vostra signoria reverendissima in solidum, tutti fino alle gatte. Quindi Tiziano era disposto a realizzare ritratti di tutti i personaggi più importanti, influenti della famiglia Farnese e in maniera ironica il della casa ci dice che era disposto a ritrarre persino le gatte e l'avrebbe fatto in una maniera stupenda perché un'altra delle abilità di Tiziano era proprio quella di rappresentare in maniera straordinaria anche il mondo animale. Tuttavia, abbiamo detto nel settembre del 1544, passo ancora un anno prima che Tiziano si decidesse a partire. Cioè affrontare un viaggio di questo tipo non era cosa da poco all'epoca, ci volevano denari per le cavalcature, per i carri che avrebbero dovuto accompagnare non solo Tiziano ma anche gli aiuti che aveva deciso di portarsi tutti i materiali necessari a lavorare a Roma e per questo arrivò in suo aiuto Guidubaldo della Rovere, il duca d'Urbino, grande amico ormai da tanto tempo di Tiziano il quale gli offrì sette cavalcature, denari che dovevano servire a Tiziano anche per magari riallestire un guardaroba consono ad essere ricevuto dal Papa. Ancora una volta è Pietro Aretino che ci racconta, ci testimonia dell'intervento di Guidubaldo della Rovere in una lettera dell'ottobre del 1545, quindi poco dopo l'arrivo di Tiziano a Roma. Scrive Aretino riportando le parole del maestro che dice adorate il signor Guidubaldo, compare, compare, adoratelo perché non c'è bontà di principe che la guagli, continua Aretino. E ciò esclama Tiziano con la voce della gratitudine, mercè del sin dove egli averlo, vostra eccellenza, con sette cavalcature, con le spese fattigli nel viaggio e con il mandar compagnia seco per tutto con agi delle carezze, degli onori e dei doni. Quindi una testimonianza importante di questo gesto di generosità che ricordiamo era sempre rivolto al più grande pittore del momento e che quindi avrebbe anche risposto un tornaconto in termini di opere d'arte. Tiziano giunse a Roma ai primi di ottobre del 1545 e di rimase fino ai primi di giugno del 1546. Venne accolto in Vaticano con grande pompa dell'amico Pietro Bembo ormai cardinale e stando al racconto di Vasari gli furono riservate alcune stanze private in belvedere in modo da poter lavorare ai ritratti. Tiziano riferì immediatamente all'Aretino che avrebbe dovuto divulgare a Venezia la straordinaria accoglienza che ebbe da parte dei Farnese e Aretino rispose ma con una lettera un po' astiosa ma come vedremo fondamentale per capire quali furono le due cose a cui più si dedicò Tiziano durante questo questo soggiorno romano. Quindi nella prima parte della lettera Aretino in qualche modo cerca di gettare fuoco sull'entusiasmo straordinario di Tiziano che gli aveva raccontato dunque di questo ricevimento quasi come se fosse un nobile. Ma è grazia particolare di casa Farnese l'abbondare nella copia delle carezze perché ben si sa che elleno son madri delle speranze. Or che vi dolga che il gricciolo quindi il capriccio venuto via adesso di trasferirvi a Roma non vi venne vent'anni fa in realtà erano trent'anni fa molto ben ve lo credo ma se ne stupite del modo che la trovate adesso Roma che avreste voi fatto vedendola nella maniera che la lascia io cioè lui si sta riferendo no agli anni precedenti il sacco di Roma precedenti il 1527 la Roma Clementina sappiasi pure che cotesta città de Magna e nelle perturbazioni dei sinistri simile a un principe greggio malcontotto dall'oessilio che se ben lo persevera con le incomodità del disagio sempre quelle in virtù delle generosità sue reali. Quindi punta a dire che sì va bene ha risolto questo capriccio di andare a Roma ma stai attento che le promesse dei Farnese non vengono sempre soddisfatte ed in questo senso è un po' premonitore. Inoltre Tiziano a causa della sua partenza tra l'altro non aveva potuto terminare il ritratto di Giovanni dalle bande nere che gli aveva commissionato proprio Aretino quindi c'era anche quest'altro motivo in più del dispiacere del famoso letterato. Ma la parte che più ci interessa della lettera per questo pomeriggio per capire qual è l'impressione che la città eterna fece a questo pittore ormai maturo ma di talento straordinario la leggiamo immediatamente. Dopo dunque questa ramanzina Aretino si scioglie in una sorta di malinconia. Mi pare ogni ora un mese il tempo dello aspettar che ritorniate solo per udire ciò che vi pare degli antichi nei marmi e in quel che più e men vale il buon arroto di loro e in che non si gli appressa o lo supera Raffaello in dipingere. Quindi dice non vede l'ora che il pittore ritorni a Venezia per avere il suo parere rispetto agli antichi marmi antichi e soprattutto ciò con cui Michelangelo gli ha eguagliati oppure se Raffaello addirittura è riuscito a superare Michelangelo in pittura. Goderòmi nel ragionarmi voi della macchina di Bramante in San Pietro e delle opere degli altri architetti e scultori tenete a mente il far di ciascun pittore famoso e del maestro Frabastiano quindi Sebastiano del Piombo in Spezie di Buccino Buccino dovrebbe essere Baccio Bandinelli guardate fiso ogni intaglio quindi ogni scultura ne vi si scordi il paragonare così fra voi stesso le figure del comparmesser Jacopo Jacopo Sansovino quindi che era a Venezia con le statue di coloro che seco concorrono a torto onde non ne son biasimati a ragione insomma così della corte così dei costumi dei cortigiani venitevene informato come dell'arte del pennello e dello scalpello e soprattutto attendete alle cose di Perin del Vago perché di intelletto mirabile Perino del Vaga in cota al mezzo rammentatevi di non vi perdere sì nella contemplazione del giudizio di cappella quindi non perderti nella contemplazione del giudizio universale che ci si dimentichi lo è spedirvi che tutto il verno ti tenga assente da me e dal Sansovino quindi una lettera importantissima che ci fa capire quanto no a Venezia si sapesse di tutto ciò che accadeva a Roma no quindi dobbiamo essere un po' aperti no rispetto al viaggio delle notizie e di ciò che si sapeva dei grandi cicli decorativi delle grandi decorazioni che nell'urbe si stavano portando avanti in quel momento quindi sono due i punti fondamentali su cui punta Aretino l'antico e il moderno Tiziano dunque trascorse i primi giorni di quell'ottobrata romana no come si suol dire e gran parte del mese di novembre proprio in giro per la città ehm soprattutto a vedere mh le antichità romane ma a vedere anche i cicli decorativi ehm più importanti e più moderni in quel in quel momento ehm ad aiutarci eh nella ehm nel capire quali furono no in parte i luoghi frequentati da Tiziano ehm in quei in in quei giorni entra in campo la voce di eh Giorgio Vasari che fu un testimone diretto in quanto ad accompagnarlo durante questo tour delle antichità romane e dei cicli pittorici furono proprio Giorgio Vasari ehm e Sebastiano del Piombo ehm Giorgio Vasari eh scrive eh che venuto l'anno 1546 sbaglia di un anno oppure non calcola a cavallo tra 45 e 46 chiamato dal cardinale Farnese andò a Roma Tiziano dove trovò il Vasari che tornato da Napoli faceva la sala della cancelleria al detto cardinale perché essendo da quel signore stato raccomandato Tiziano a esso Vasari gli tenne amorevole compagnia in menarlo a vedere le cose di Roma quindi lo accompagnò a vedere le cose di Roma e così riposato che si fu Tiziano al quanti giorni gli furono date stanze in bel vedere a ciò mettesse mano a fare di nuovo il ritratto di Papa Paolo Intero quello di Farnese quello del Duca Ottavio i quali condusse ottimamente e con molta soddisfazione di quei signori il brano è tratto proprio dalla biografia del 1568 a conferma eh di questo momento di tour tra le rovine romane è un passo commovente della lettera di Pietro Bembo inviata a Girolamo Querini eh veneziano il dieci ottobre del 1545 quindi appena arrivato eh ehm Tiziano in cui il cardinale descrive bene no ci fa capire bene l'atmosfera che si respirava in quei giorni e che respirò Tiziano stesso mi resta da dirvi eh leggo da qui nostro mister Tiziano è qui il quale dice avervi una grande obbligazione in ciò quindi evidentemente mh il Girolamo Querini aveva era intervenuto in qualche modo per convincere Tiziano di andare a Roma che voi siete stato causa che egli è venuto a Roma che con le vostre amorevoli parole l'infiammaste a pigliar questo camino del quale si trova tanto contento quanto egli non basta a dire ha veduto oggi mai tante belle cose antiche che il fanno sopra modo maravigliare e rallegrarsi d'esserci venuto quindi è una testimonianza diretta dell'entusiasmo che Tiziano dimostrò eh alla visione finalmente diretta delle antichità romane quelle antichità di cui aveva sentito parlare solo dai viaggiatori o che pure aveva o che oppure aveva visto attraverso attraverso materiali grafici attraverso stampe che circolavano anche nel Veneto o attraverso anche le copie che le collezioni di antichità a Venezia eh conservavano ehm ancora un'altra interessante testimonianza questa volta è la voce diretta di Tiziano in una lettera davvero importante che ci fa capire come in realtà Tiziano fosse davvero un grande un grande imprenditore imprenditore di se stesso come avesse una capacità straordinaria di diremmo oggi mantenere due piedi in una scarpa cioè ehm riuscire a gestire bene le committenze imperiali con quelle papali eh si tratta di una celeberrima lettera datata otto dicembre mila e cinquecento quarantacinque il giorno degli ehm mila e cinquecento quarantacinque in cui ehm Tiziano ehm dichiara in qualche modo la sua remissione al patronato asburgico quindi al patronato di Carlo V io scrive a Carlo V sono ora qui in Roma chiamatoci da nostro signore papa Paolo III Farnese vado imparando da questi meravigliosissimi sassi antichi cose per le quali l'arte mia divenghi degna dipingere le vittorie che nostro signore Dio prepara a vostra maestà in Oriente quindi capite no maestro di straordinaria ehm di straordinaria eh bravura con una carriera ormai avviata da anni dichiara di essere a Roma e di continuare ad imparare da quei meravigliosissimi sassi antichi da quelle opere antiche che gli serviranno per realizzare opere che dovranno celebrare anche la gloria dell'imperatore ehm l'arrivo mh a Roma eh di uno dei più importanti eh eh pittori del secolo non mancò come vi diceva all'inizio di fare in qualche modo tremare no? Un po' le vene ai polsi di qualche collega e in particolare proprio Perino del Vaga di cui Aretino aveva mh raccomandato a Tiziano di vedere le sue opere le sue opere romane. e dunque ancora Vasari che ci informa su questo grazie ad un racconto contenuto nella vita di Perino un racconto che è un po' impastato di verità storica ma anche di aneddotica come era solito fare Vasari cioè aggiungere un po' di pepe alle sue biografie eh quindi alimentare anche uno dei temi da lui preferiti cioè quello della proverbiale rivalità eh fra fra gli artisti. ehm qui mh ci torniamo dopo ecco venendo poi l'anno 1546 ripete eh Vasari Tiziano da Cador Pittor Viniziano celebratissimo per fare ritratti a Roma e t'avendo prima ritratto Papa Paolo quando sua santità andò a Bussè e non avendo remunerazione di quello né dal alcuni altri che aveva fatti al cardinale Farnese a Santa Fiore da essi fu ricevuto onoratissimamente in belvedere perché levatosi una voce in corte poi per Roma qualmente egli era venuto per fare storia di sua mano nella sala del re in palazzo dove Perino doveva farle egli. e vi si lavorava di già i stucchi. Dispiacque molto questa venuta Perino e se ne dolse con molti amici suoi non perché credesse che nell'istoria Tiziano avesse a passarlo lavorando in fresco ma perché desiderava trattenersi con quest'opera pacificamente e onoratamente fino alla morte. e seppur ne aveva a fare farla senza concorrenza bastandoli purtroppo la volta e la facciata della cappella di Michelangelo a Paragone qui vi vicina questa sospizione fu cagione che mentre Tiziano sta in Roma egli lo sfuggì sempre e sempre stette di malavoglia fino alla partita sua. Basari si sta rivolgendo, si sta riferendo alla decorazione della sala reggia dove stava lavorando Perino agli stucchi meravigliosi della volta. la sala è decorata con vari affreschi e diverse storie e abbiamo anche una parte di Venezia all'interno di questa sala con un riquadro ad affresco, la sottimissione del Barbarossa ad Alessandro III che vedete è ambientata in piazza San Marco e che ci mostra uno degli episodi più importanti della storia veneziana avvenuto nel 1177 in piazza San Marco, un momento apicale della contesa epica tra il Barbarossa, quindi l'imperatore e il papa Alessandro III ed è quell'episodio che in qualche modo conferino a Venezia lo status che ancora nel Cinquecento aveva di regina in qualche modo dei mari. Ancora è Basari a raccontarci alcune altre notizie sui luoghi che visitò Tiziano e in particolare ricorda una visita alla Farnesina e in particolare le impressioni che Tiziano ebbe di fronte alla sala delle prospettive di Baldassarre Peruzzi e mi ricorda, scrive Basari, che menando io il cavaliere Tiziano, pittore eccellentissimo e tonorato, a vedere quell'opera egli per mio modo voleva credere che quella fusse pittura perché mutato, veduta, ne rimanesse meravigliato. Evidentemente Tiziano rimaneva meravigliato da questa decorazione che era molto diversa dalla decorazione che si praticava a Venezia, una decorazione di grande illusione che gioca non solo con le finte architetture che si proiettano sul paesaggio ma anche su questo dialogo tra paesaggio reale, esterno e interno che vediamo nella sala straordinaria affrescata da Baldassarre Peruzzi. Finito questo tour memorabile nella città eterna, Tiziano inizia a dipingere i ritratti dei più importanti personaggi di Casa Farnese a cominciare dal triplice ritratto di Paolo III Farnese con i nipoti Alessandro e Ottavio già agli inizi di dicembre e lo fa in un momento tra i più critici della riforma della Chiesa e il momento in cui si apre anche il concilio di Trento, il 13 dicembre, quindi si capisce anche che probabilmente i Farnese in quel momento avevano altre gatte da pelare rispetto al più volte nominato beneficio di Tiziano. In realtà il dipinto ancora una volta si risolve con uno dei testamenti spirituali della ritrattistica tizianesca più alta, è un dipinto che gioca da un lato sulla psicologia intensa, la restituzione della psicologia così intensa degli effigiati, ma soprattutto è una sorta di pièce teatrale messa in pittura in cui tutti i poteri della Casa Farnese vengono rappresentati. Al centro c'è il Papa seduto, un po' ingobbito con quest'aria quasi ferina, quasi darapace, che afferra con una mano il bracciolo della sedia, con l'altro invece il tavolo. Alla sua destra Alessandro Farnese, il cardinale che rappresenta il futuro ecclesiastico del casato, e a sinistra in posizione ossequiosa con un inchino Ottavio Farnese, il fratello, che avrebbe dovuto invece tenere stretti i legami con l'impero attraverso la promessa di un matrimonio con Margherita d'Austria, quindi figlia di Carlo V. Quindi si è parlato di questo dipinto in tanti modi, si è fatto anche un paragone con Shakespeare, è una sorta di antecedente anche della grande pittura ritrattistica, di ritratti del Seicento, non solo italiano, veneto, ma anche europeo, pensate Velázquez, quanto prenderà da un ritratto di questo tipo. È un ritratto però non finito, che non verrà portato a termine, se non nelle parti più importanti, che sono proprio quelle dei volti, degli effigiati. E poi ritorna a questo nuovo modo sprezzante. Tiziano arriva a Roma, non modifica la sua pittura, anzi in qualche modo esalta le caratteristiche di naturalismo, le caratteristiche di vibrazione cromatica di una pittura fatta quasi senza disegno in assoluto, e gioca tutto il dipinto con una tavolozza abbreviata, tutta giocata sul rosso, il bianco e il nero, impastati in modo da realizzare in alcune parti dei brani di pittura straordinaria, come per esempio la manica del pontefice bordata di pelliccia di lince, così piumosa, che pare quasi poterci affondare le dita. È un modo di dipingere che viene testimoniato anche dagli storici veneziani, che si occuparono di pittura e di arte veneziana, in particolare da Marco Boschini, che in alcuni versi delle sue ricche minere della pittura veneziana del 1660 scrive sulla base di una testimonianza di un allievo di Tiziano che soleva dire il nostro gran Tizian che chi desiderava essere pittori bisognava conoscere tre colori, il bianco, il negro e il rosso e averli in manna. Quindi questa è proprio una testimonianza diretta di come Tiziano procedeva con le sue orchestrazioni cromatiche, quelle alchimie cromatiche che saranno così caratteristiche dell'ultima parte della sua vita. C'erano dei precedenti illustri che Tiziano poteva conoscere, come il ritratto di Leone X con i cardinali Giulio De Medici e Luigi De Rossi, che poteva conoscere Tiziano attraverso la bellissima copia che possedevano i Gonzaga a Mantova, realizzata da Andrea del Sarto. E naturalmente accanto al grande ritratto, triplice ritratto, di Capodimonte realizzò anche dei ritratti singoli di cui vi mostro qui una carrellata, in particolare il ritratto del cardinale Alessandro Farnese che come vedete è proiettato in controparte rispetto al triplice ritratto di Napoli con una maniera però più finita, che ci fa capire quale poteva essere in qualche modo il risultato finale del triplice ritratto con tutte quelle sofisticazioni pittoriche della luce che incide sulla mantellina rossa con questa sorta di bave di biacca che appunto rendono il taftà di seta tutto cangiante. Ancora realizzerà altri ritratti di Paolo III Farnese, questa volta con il camauro, il tipico cappello, è anche un ulteriore ritratto del cardinale Pietro Bembo più anziano con la barba lunga, sono ritratti di una qualità un po' più modesta che ci fanno capire come Tiziano in qualche modo sia stato aiutato anche dalla bottega in particolare per il ritratto del cardinale Pietro Bembo si è pensato a un intervento del figlio stesso di Tiziano, Razio Aveceglio che l'aveva accompagnato durante il soggiorno romano. Nonostante questo, è giusto una nota informativa, questo ritratto fu quello che ebbe maggior successo per la diffusione dell'immagine del cardinale e anche Vasari lo replicherà per esempio nella remunerazione delle virtù nel palazzo della cancelleria, lo vedete qui, ne prenderà spunto. Quando Tiziano giunge a Roma porta con sé alcuni dipinti, tra cui anche un ecceomo, ce lo dice ancora una volta Vasari, che questo passo della biografia spiega anche come le aspettative dei farnesi ma anche del mondo dell'arte romano rispetto a Tiziano fossero proprio quelle nel campo del ritratto più che in altri campi. Il dipinto, l'ecceomo, per Paolo III Farnese non lo abbiamo più, però possiamo immaginare che non dovette essere a livello iconografico molto diverso da quello che il maestro realizzò subito dopo il rientro a Venezia, questa volta per l'imperatore Carlo V. e leggiamo dunque le parole di Vasari. A persuasione dei quali, per donare al Papa un Cristo dal mezzo in su, in forma di ecceomo, quindi dice che all'inizio che portò questo dipinto, per donarlo al Papa, la quale opera o fusse che le cose di Michelangelo, di Raffaello, di Pulidoro e d'altre l'avessero fatto perdere o qualche altra cagione, non parva ai pittori tutto che fosse buon'opera di quell'eccellenza che molte altre sue e particolarmente i ritratti. Quindi inizia Vasari ad insinuare alcuni dubbi sul modus operandi di Tiziano che vedremo sfogheranno in maniera più decisa nel passaggio dedicato alla Danae. Entriamo dunque nel dipinto profano che Tiziano porta a Roma per il cardinale Alessandro Farnese, entriamo dunque nelle stanze segrete di principi e cardinali con la bella Danae che è conservata anch'essa nel museo di Capodimonte. L'opera naturalmente racconta la storia, il mito ovidiano di Danae rinchiusa in una torre bronzea dal padre Acrisere di Argo per scongiurare la profezia dell'oracolo di Delfi che indicava nel figlio di lei il proprio futuro assassino ma che nonostante la clausura forzata della fanciulla la fanciulla venne fecondata da Giove sotto forma di pioggia d'oro. La prima testimonianza, come vi dicevo all'inizio, di quest'opera l'abbiamo nella lettera del Monsignor Giovanni della Casa del 20 settembre 1544 il quale annuncia al cardinale che l'opera è pressoché fornita dunque è quasi finita. La lettera è ricchissima di altre informazioni in particolare ci dice anche che Tiziano era disposto a realizzare un ritratto sulla base di uno schizzo inviatogli dal miniatore croato Giulio Clovio alle dipendenze del cardinale Alessandro rappresentante un'amata del cardinale Farnese una certa Angela e addirittura aveva detto che pur di fargli piacere Tiziano era disposto ad appiccicare il volto di questa donna sulla Danae. Sono state fatte varie ipotesi non possiamo dire con certezza che questo sia avvenuto si è tentato anche un confronto tra il volto di Danae e quello della giovane donna che Tiziano dipinse proprio nel soggiorno romano un altro dipinto proveniente dalla collezione Farnese ma ripeto rimane nella sfera delle ipotesi e in questa atmosfera molto intima di un dipinto che in qualche modo era scomodo per un cardinale che aveva chiesto proprio la copia della Venere di Urbino realizzata appunto per il Duca di Urbino e che vediamo qui a sinistra ed è una notizia abbastanza certa in quanto le radiografie della Danae ci hanno mostrato che sotto esiste una versione precedente molto simile alla figura di Venere nel dipinto degli Uffizi ma ciò che colpisce nella lettera di Monsignor della Casa è l'aspetto della sensualità che questo dipinto esprimeva tant'è vero che Monsignore scrive che Tiziano che è fornita quindi ha pressoché finita l'opera per commissione di vostra signoria reverendissima una nuda che faria venire il diavolo addosso al cardinale San Silvestro Tommaso Badia, dominicano tra i più insomma rigidi censori della curia romana quindi faria venire il diavolo addosso puntando proprio sull'aspetto sensuale di questo dipinto che addirittura proprio per sensualità per la posa così accogliente della giovane che riceve dal cielo la pioggia d'oro quindi Giove trasformato in pioggia d'oro addirittura quella che vostra signoria reverendissima vide in Pesaro nelle camere del signor Duca d'Urbino addirittura quella sembra una teatina quindi una monaca appresso quindi a confronto di questa è probabilmente il cambio di tema tra una venere ed una dana e forse qualcuno o qualche critico ha pensato che possa essere anche dovuto alla troppa sensualità del soggetto l'ultimo punto su cui vorrei soffermarmi e che è un punto veramente un pezzo forte di questa vicenda è l'incontro di Tiziano con Michelangelo Bonarroti una sorta di corpo a corpo tra i due artisti più importanti di quel momento un corpo a corpo che si svolge per Tiziano da un lato attraverso anche un omaggio in qualche modo che fa le opere del maestro Fiorentino e poi invece nella letteratura artistica attraverso la biografia di Vasari un corpo a corpo che diventerà in realtà un topos quindi il paragone fondamentale tra due modi di dipingere due modi di dipingere più importanti in quel momento cioè quello della cultura artistica fiorentina centroitaliana e quella della cultura figurativa veneziana quindi disegno contro colore gli omaggi che dal punto di vista compositivo e iconografico fa Tiziano a Michelangelo sono dettati naturalmente da confronti che vedete qui come il confronto della posa così languida, così accogliente della Leda e il Cigno di cui Michelangelo realizzò il cartone preparatorio oppure anche la scultura della notte che vediamo in alto nelle tombe medice o ancora un passaggio intermedio cioè molto forte è stato rilevato dalla critica il confronto con la Danae dipinta da Francesco Primaticcio nella galleria di Fontainebleau che era nota evidentemente anche attraverso la circolazione di stampe e di materiali grafici ancora Tiziano poteva essersi ispirato allo stesso tema che aveva realizzato Correggio nella Danae oggi conservata nella galleria borghese e che poteva aver visto nelle collezioni Gonzaga che frequentava moltissimo ormai da anni ma torniamo dunque infine all'incontro tra i due giganti un incontro che ci viene narrato ancora una volta da Vasari testimone diretto abbiamo detto andando un giorno Michelangelo e Til Vasari a vedere Tiziano in belvedere videro in un quadro che allora aveva condotto una femmina ignuda figurata per una Danae che aveva in grembo Giove trasformato in pioggia d'oro e molto come si fa in presenza gliene lo darono dopo partiti che furono da lui ragionandosi del fare di Tiziano il buonarroto lo commendò assai dicendo che non molto gli piaceva il colorito suo e la maniera ma che era un peccato che molto gli piaceva il colorito suo e la maniera ma che era un peccato che a Venezia non si imparasse da principio a disegnare bene e che non avessero quei pittori miglior modo nello studio conciossia dissegli che se quest'uomo fosse punto aiutato dall'arte e dal disegno com'è dalla natura e massimamente dal contraffare il vivo non si potrebbe far più né meglio avendo egli bellissimo spirito e una molto vaga e vivace maniera e infatti così è vero perciò che chi non ha disegnato assai e studiato cose scelte antiche o moderne non può fare bene di pratica da sé né aiutare le cose che si ritranno dal vivo dando loro quella grazia e perfezione che è dall'arte fuori dell'ordine della natura la quale fa ordinariamente alcune parti che non sono belle dunque questo è proprio uno dei passi incriminati dalla storia critica veneziana che hanno appunto difeso Tiziano dalle biografie dalla biografia di Vasari e che in qualche modo hanno alimentato tutto attraverso i secoli questa sorta di opposizione che nasce anche da episodi di questo tipo noi oggi sappiamo benissimo come i pittori veneziani disegnassero abbiamo delle testimonianze di artisti che nella bottega conservavano numerosi fogli che venivano passati poi agli allievi e che anche nella bottega di Tiziano dovevano comunque esserci certamente Vasari figlio di una cultura fiorentino centrica che poneva Michelangelo al vertice massimo della parabola della storia della storia dell'arte non poteva affermare diversamente i giorni a Roma passarono velocemente i farnese come dicevo come dicevo evidentemente impegnati in altre cose non risolsero il problema del beneficio per il figlio Pomponio agli inizi dell'estate del 1546 Tiziano raccoglie le sue cose e parte nuovamente per Venezia facendo tappa a Firenze scrive ancora Vasari partito finalmente Tiziano di Roma con molti doni avuti da quei signori e particolarmente per Pomponio suo figlio un beneficio di buona rendita ma questo non è vero si mise in cammino per tornare a Venezia poiché Orazio suo altro figliuolo ebbe ritratto Messer Battista Ceciliano un musicista eccellente sonatore di violone che fu molto buon'opera e tegli fatto alcuni altri ritratti al duca Guidubaldo Dubino e giunto a Firenze vedute le rare cose di questa città rimase stupefatto non meno che avesse fatto di quelle di Roma quindi questo turno quasi di formazione in ritardo che fa Tiziano nel centro Italia prosegue e raggiunge dunque il completamento a Firenze cosa resta del viaggio di Roma nelle opere di Tiziano ritornato a a Venezia ci sono diverse scuole di pensiero parte della critica ritiene che Tiziano che il lascito di Roma no su Tiziano è poca cosa altra parte della critica invece crede che soprattutto nelle opere avviate dopo il ritorno ci sia un'impronta un po' indelebile della visione magnifica di quei meravigliosissimi sassi antichi vi mostro molto velocemente il martirio di San Lorenzo realizzato per l'altare di Lorenzo Massolo che è uno dei notturni più suggestivi e emozionanti del rinascimento europeo è anche uno dei quadri più disperati del rinascimento in cui Tiziano ambienta la scena rinunciando a quelle categorie classiche rinascimentali per creare un turbinio di luci l'intera architettura che in qualche modo ricorda benissimo le architetture dei templi romani con a sinistra la statua di una di una di una di una di una di una su questo basamento tutto eh istoriato è tutto concepito per forza di luce eh la luce eh della luna che arriva dall'altro e dall'alto le luci artificiali dei fuochi che eh che si espandono lungo tutto quanto eh soprattutto il vuoto no che crea che crea in alto è un dipinto che guarda comunque all'antico e lo vediamo con questa citazione dal Galata Caduto conservato nella collezione Grimani quindi una una collezione eh veneziana eh ma anche se andiamo avanti no eh nel 1553 54 nella Venere Adone che realizzerà per Filippo II una delle poesie per Filippo II Tiziano si ispira ancora una volta a un marmo antico psiche scopre amore detto anche letto di Policleto per la posa di Venere con la sforbiciata delle 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 gambe e poi anche eh Adone per il braccio no penzolante e le spalle così in in diagonale un eh di cui aveva realizzato una traccia no in un disegno che vedete qui qui in alto molto velocemente ancora e chiudiamo no su questo confronto con con eh Michelangelo e quella raccomandazione no di Aretino non perderti nel giudizio universale in realtà Tiziano certamente no eh vide il giudizio universale e in qualche modo quasi in risposta forse no a a quell'atmosfera che in qualche modo aveva dovuto percepire no a Roma lo traduce in una maniera eccitata dalla luce e dal colore nella grande tela della Trinità dipinta tra il mille e cinquecentocinquantuno e mille e cinquecentocinquantaquattro oggi a Madrid realizzata per Carlo Quinto è il dipinto dell'abdicazione è l'ultimo dipinto eh che eh realizzerà uno degli ultimi dipinti che realizzerà per per l'imperatore è il dipinto che l'imperatore volle no nel nel suo esilio ultimo nell'estremadura e vedete come il confronto è proprio quello di una eh di un cielo quindi di un universo privo di appigli eh architettonici tutto giocato sull'infinito delle delle nubi e su questo groviglio di corpi nerboruti muscolosi che eh si annodano eh fra di loro e vedete qui a sinistra eh Michelangelo nel brano ai piedi eh del Cristo eh giudice con uno dei profeti eh nella parte bassa della pala di eh Tiziano potrebbero essere ancora molti gli esempi ma forse il tempo a mia disposizione è scaduto e grazie 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 davvero per questa bellissima relazione noi abbiamo l'abitudine da questo punto di dare la voce al nostro pubblico e se avete piacere di fare domande intervenire chiedere a Marcel Grosso delle delucidazioni o dare delle nuove suggestioni credo che risponderà volentieri certo prego prego aspetti solo il microfono così la sentiamo tutti molte grazie una piccola domanda laterale che rapporto c'è fra la Tane di di Napoli e quella di Madrid c'è una differenza di datazione o anche è nata a Roma diciamo certo c'è una differenza di datazione e c'è anche una differenza iconografica abbiamo detto la Dane è realizzata la Dane Farnese è realizzata tra il 1544 e il 1545 e il 1546 presumibilmente ricordo è il quadro che si porta aveva iniziato a Venezia la Dane del Museo del Prado è una Dane molto più tarda degli anni 60 del 500 della prima metà degli anni 60 del 500 vi racconto una piccola nota la Dane del Prado fino a pochissimi anni fa diciamo fino al 2016 più o meno se non ricordo male era considerata la Dane che Tiziana aveva realizzato per il camerino di Filippo II in compagnia del Venere Adone che vedevamo prima in realtà la scoperta anzi la ripulitura di una Dane che era considerata un'opera di bottega nella collezione Wellington a Londra ha fatto rivelare invece una pittura stupenda magnifica e quindi riconsiderare l'attribuzione a Tiziano e quindi riconoscerla come l'opera del 1552 quindi la prima opera per il camerino di Filippo II dal punto di vista iconografico anche ci sono delle varianti Tiziano parte dalla Dane e Farnese soprattutto per l'idea di questo letto portato molto sul primo piano vicino allo spettatore un po' in diagonale c'è sempre il tema straordinario di queste lenzuola disfatte bianche il bianco avorio il bianco ocra che stacca con la pelle e burnea della Dane e però invece dell'angelo scusate invece dell'amorino si trova una vecchia una donna vecchia che con il grembiule tenta di raccogliere la pioggia d'oro quindi una specie di idea di avidità a confronto della bellezza invece idealizzata della Dane ecco un'altra domanda se portiamo il microfono grazie mi chiedevo attraverso quale percorso questi ritratti soprattutto farnesiani sono finiti negli Stati Uniti allora per fortuna la maggior parte dei ritratti sono conservati in Italia attraverso linee di discendenza da Parma poi sono arrivati a Napoli con i Borbone quindi la maggior parte per fortuna ce li abbiamo ancora su territorio nazionale gli altri quadri sono le vendite al di fuori dell'Italia ed oltro ceno sono vendite che avvengono soprattutto nell'ottocento quando c'è questa dispersione feroce delle collezioni romane le grandi collezioni romane che vengono disperse e quindi ci sono vari canali che vanno presi singolarmente e che quindi anche attraverso magari donazioni che vennero fatti in passato dai farnesi di dipinti che sono fuoriusciti anche prima dalla collezione stessa farnese è una molto complessa quelli che abbiamo visto soprattutto sono lì nelle collezioni quello per esempio abbiamo all'inizio vedevamo il ritratto bellissimo del cardinale Pietro Bembo quella è una dispersione dalla collezione Barberini per esempio buonasera solo una piccola curiosità se ho capito bene l'approccio di Tiziano con le antichità romane riguarda più che altro la scultura o al massimo l'architettura una curiosità riguardo invece la pittura romana o le decorazioni musive si è confrontato venivano ritenute un genere diciamo minore oppure non lo so cioè si è confrontato con questi generi per pittura romana naturalmente intendiamo quello che i pittori conoscevano della Domus Aurea delle scoperte che emergevano soprattutto dal punto di vista decorativo delle grottesche del paesaggio quindi da questo punto di vista sì per quanto riguarda Tiziano quello che possiamo dire sicuramente che il confronto più forte rimane quello con la scultura per velocità non sono ho lasciato fuori alcuni esempi ma magari questa è l'occasione per sì ho lasciato questo celeberrimo probabilmente Tiziano aveva potuto vedere una delle repliche del marmo che si trovava nelle collezioni romane ma che circolava abbondantemente anche in tutta Italia e nello stesso Veneto ma per esempio nell'estate del 1545 emerge dalle terme di Caracalla il toro farnese quindi eccolo qui eccolo ce la farò proprio poco prima no? qualche mese prima che Tiziano giungesse a Roma riemerge questo che sicuramente è il gruppo scultorio più impressionante no? dell'antichità che è giunto fino a noi certo Tiziano non lo vide così non lo vide restaurato no? lo vide ancora in frantumi ma possiamo immaginare la suggestione no? che fece sul pittore no? queste questi massi queste pietre antiche no? che attendevano di essere restaurate e appunto la critica si è interrogata no? su alcune similitudini in particolare per quanto riguarda una delle ultime poesie che Tiziano realizza per Filippo II il ratto d'Europa oggi a Boston all'Isabella Stuart Gartner Museum vedete come la posa della ninfa che viene rapita dal toro da Giove trasformato in toro in qualche modo ricorda da vicino la posa della dirce no? del gruppo del gruppo farnese per questo andamento obliquo della figura per le braccia no? che si aprono a Tenaglia e guardate proprio il gesto della dirce che afferra il polpaccio della figura maschile con la mano sinistra di Europa che afferra il corno del toro insomma sono suggestioni che su cui la critica insomma in qualche modo ha ragionato e poi anche non abbiamo purtroppo un vero e proprio tacquino di Tiziano di antichità romane però per esempio nell'esiguo catalogo di disegni di Tiziano per esempio si conserva questo bellissimo foglio al gabinetto dei disegni delle stampe degli uffizi con due figure maschili semi sdraiate un foglio che è databile subito dopo l'arrivo a Venezia probabilmente per il soffitto della decorazione del soffitto della scuola grande di San Giovanni evangelista vedete come che cosa fa Tiziano Tiziano traduce ancora una volta in una in una materia no? con un carboncino molto pastoso vellutato le incidenze della luce su questa muscolatura così scultorea che sembra in qualche modo guardare alle statue fluviali romane in particolare vi mostro qui un confronto con il Marforio che quando arrivò Tiziano a Roma doveva ancora trovare oggi al Campidoglio invece quando arrivò Tiziano doveva trovarsi ancora nel foro romano grazie 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 avevo una curiosità che riguarda lecce uomo del prado sì ho notato che è su Ardesia sì non non lo sapevo ah sì e mi chiedevo mi chiedevo se ci puoi spiegare meglio sì questa scelta di questo supporto per velocità non l'ho detto Sì, allora, naturalmente le committenze di Carlo V a Tiziano furono tutte committenze di opere sacre oppure di ritratti, sarà il figlio, sarà Filippo II invece a chiedere soprattutto, a chiedere anche opere profane, anche di sensualità spinte, soprattutto per il suo camerino, le stanze private dei principi, abbiamo visto qualche esempio delle poesie. Questo è un dipinto realizzato su Ardesia, quindi su Lavagna, che era una pratica particolarmente gradita ai pittori veneziani. Lo stesso Sebastiano del Piombo ci ha lasciato molti esempi. In realtà non sappiamo bene se fu una scelta di Carlo V o di Tiziano in questo caso. Fatto sta che il dipinto venne realizzato tra il 1547 e il 1548 e venne consegnato durante un altro viaggio celeberrimo di Tiziano ad Augusta in occasione della dieta indetta dall'imperatore e anche qui io credo che la vicinanza con il viaggio romano in qualche modo abbia stimolato l'artista non solo a dipingere su Ardesia. Ricordiamo che in quell'anno fu molto vicino anche a Sebastiano del Piombo, quindi probabilmente è una scelta proprio del pittore che doveva presentarsi ad Augusta con un pezzo importante e il supporto in questo caso rendeva grande prestigio alla stessa pittura. Credo che questa forma scultorea del torso di Cristo così muscolosa, così incisa nelle sue parti sia ancora un portato del ricordo della statuaria romana che vide durante il soggiorno a Roma ed è un'opera di una qualità in questo caso davvero eccelsa, davvero era il quadro per l'imperatore, è finito in tutte le sue parti ed ha anche il fondo nero, il fondo della lavagna, permette anche di accentuare quelle caratteristiche di pathos che il soggetto esprimeva, un dipinto davvero da camera, da camera da letto, un dipinto di fronte al quale evidentemente Carlo V avrà sgranato Rosari, ecco per intenderci. Certamente fu Carlo V a anche suggerire invece un supporto lapideo in marmo per la compagna di questo dipinto, cioè per la Madonna addolorata che si trova al prado. Oggi il prado ha fatto un allestimento stupendo dopo l'ultimo restauro, si vedono l'ardesia e la Madonna su marmo con le mani aperte, quindi non giunte perché c'è anche quella con le mani giunte sul tavolo, con le mani aperte, dove si può vedere anche il retro. E in quel caso il marmo ancora una volta non solo è indice di preziosità del pezzo, ma è anche a livello simbolico, la vergine, il marmo bianco, la purezza, la solidità della fede. C'è un'ultima domanda, prego. Ci sono molte incisioni che illustrano lo studio di Tiziano nel Belvedere, tra 6-800 naturalmente, biografie e opere varie. Ed è curioso che quando si coglie il momento della visita, che lei ha ben citato, di Buonarroti e Basari, mentre Tiziano è impegnato a dipingere la Danae, sulla parete retrostante dello studio del Belvedere, è collocato il busto di Raffaello, quasi che l'eggita non deve comportare distrazioni. È il grande assente, Raffaello è il grande assente, ma è in dubbio, sappiamo per certo che Tiziano è stato alla Farnesina, e immaginiamo l'impressione che dovette fare la decorazione della sala di psiche sull'artista veneziano, e io ho provato questo, mi sono cimentato in questo confronto, la schiena che realizza Tiziano, bellissima, tutta scolpita dalla luce, non solo dal punto di vista iconografico, ci sono dei legami, vedete il particolare a sinistra della scena del banchetto nuziale, quello che sta sulla volta della sala di psiche, oppure anche la meravigliosa scena delle tre grazie, vedete come l'idea di queste schiene in qualche modo, secondo me, deve essere rimasta anche nella mente di Tiziano, che anche in altre opere ha guardato al grande maestro, e in particolare già da tempi insospetti, si è parlato, la critica ha parlato spesso di un legame in qualche modo, dell'assunta, uno dei quadri più celebri di Tiziano, l'assunta di Santa Maria Gloriosa dei Frari, con questo ascensionismo privo di appigli architettonici nell'atmosfera dorata, una sorta di guardare al Raffaello della Madonna Sistina. Quindi ci sta, Raffaello sia lì... Ma ormai non era più incomodo, diciamo che ormai lui purtroppo non c'era più, quindi invece fu molto omaggiato sicuramente da Tiziano, sì. Ah sì, in chiave di iconografia rafforza Roma, no? Quello rafforzava Roma. Grazie. Grazie, ringrazio ancora il professor Gross. Grazie e buona serata. Grazie. 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 Grazie a tutti.